Il nuovo amministratore delegato dell'ILVA, Enrico Bondi, è tornato a Taranto. È la seconda volta che si reca in fabbrica dal giorno della sua nomina. In agenda ci sono varie riunioni con dirigenti e funzionari, ma nessun incontro sarebbe invece previsto né con i giornalisti né tantomeno con i sindacati. Bondi sta seguendo anche gli interventi di risanamento previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e che sono già in atto nell'acciaieria tarantina. In realtà Bondi, già famoso consulente del premier Mario Monti, sta già collaborando da qualche settimana con l'ILVA, dopo aver sottoscritto un contratto di consulenza che gli ha permesso, aveva detto Bruno Ferrante, che dell'azienda è rimasto presidente, di farsi una prima idea dei meccanismi aziendali. L'ILVA intanto attende da una settimana la decisione del GIP sulla richiesta di restituzione dei prodotti sequestrati dalla magistratura, 1.700.000 tonnellate del valore di 800 milioni di euro, richiesta fatta in ottemperanza alla legge 231, la cosiddetta salva-ILVA, che è stata dichiarata costituzionale dalla consulta.